Ti faccio vedere come cambiare il background del tuo sito web. Puoi personalizzare lo sfondo di tutte le pagine del tuo sito web in pochi passaggi. Clicca sull'icona Design qui a destra nella barra degli strumenti. Dalla sezione Sfondi puoi scegliere un colore. Se non ti piacciono quelli presenti puoi aggiungere quelli che vuoi dal pulsante più e selezionarlo dalla paletta. Premi ok per inserirlo nella lista. Altrimenti puoi scegliere un pattern tra quelli a disposizione. La modifica verrà salvata in automatico. Infine puoi anche aggiungere un'immagine di sfondo. Seleziona il pulsante più e aggiungi l'immagine dal tuo pc. Puoi decidere in qualsiasi momento di cambiare sfondo e tornare alla configurazione iniziale.